Sono pronto a partire con la riete. Oggi non vi perderete d'animo, neanche di fronte agli ostacoli che potreste trovare sul vostro cammino. Facendo leva sulla fantasia, rimuoverete con una certa facilità gli intralci e risolverete i problemi. Toro si evidenzia un'esigenza di interiorità e di concentrazione che si esprime anche a livello fisico. Oggi, nonostante sia Natale, non avete voglia di vedere gente, di fare telefonate d'auguri o andare a trovare noiosissimi parenti. Gemelli, trascorrerete un bel Natale e la vita sentimentale sarà in primo piano per molti. I rapporti interpersonali, gli amicizi e gli affetti sono in questa fase al centro della vostra vita. Cancro, affrontata con molta calma e pazienza, anche una giornata sottotono può riservare delle piccole soddisfazioni. Valorizzate pure le relazioni sociali accettando gli inviti che pioveranno da più parti. Leone, giornata ricca di buoni influssi, straordinari nelle faccende amorose. Se siete in coppia, vi attendono momenti indimenticabili, traslanci, tenerezze e sogni. Qualcuno rimetterà anche a posto le questioni familiari che si erano trascinate fino a questo Natale. Vergine, splendido periodo, in aumento il vostro fascino che vi consentirà di ottenere ciò che desiderate in amore. Pertanto, se siete in coppia, inizia un periodo splendido. Bilancia, non tutto funzionerà secondo i vostri desideri. Armatevi di pazienza se l'umore si colorerà di grigio, se la forma lascerà desiderare e se un programma della giornata subirà una variazione, non ci saranno problemi perché tutto si risolverà per il meglio. Scorpione, anche se la giornata non promette meraviglie e infatto di divertimento, alleggia un senso di pace, atmosfera serena, ideale per dedicarsi al Natale e alle persone care. Sagittario, nel cielo odierno avrete astri che affinano l'intuito, la fantasia. Una serata divertente in compagnia degli amici sarà l'occasione giusta per ritemprarvi delle ultime fatiche. Capricorno, stelle dissonanti vi mandano in tilt proprio il giorno di Natale. Appellatevi al buon senso. Una giornata storta può anche capitare, per cui vedete di non farne un dramma. Buone notizie in serata. Acquario, giorno giusto per pensare con il partner o gli amici di organizzare un bel viaggio o una vacanza proprio in questi giorni. Se rimarrete a casa, organizzate una bella serata con gli amici, anche perché non vedete l'ora di dare quei regali che avete scelto con molta cura. Pesci, trascorrerete un Natale sereno. I più fortunati partiranno per una vacanza all'estero oppure sulla neve. Non potrà comunque lamentarsi neppure chi di voi rimane in città. I programmi delle festività non sono niente male.